grazie Bologna grazie grazie perché oggi non stiamo a ricordare il passato ma proviamo e vogliamo costruire il futuro però mi permetto di cominciare salutando anche chi ci sta guardando da casa ricordando una persona che oggi non è qua una vittima di questo stato ladro che preferisce i delinquenti e condanna cinque anni di galera le persone per bene vi chiedo trenta secondi per ricordare Ermes Mattielli che questo stato infame ha preferito finisse sottoterra invece che essere con noi in piazza Bologna e con lui tutte le vittime della violenza ciao Ermes è come se tu fossi qua con noi è guai è guai a chi si permetterà di continuare a difendere i delinquenti e un pensiero anche alla gente di polizia e ai quattro carabinieri feriti oggi da quei delinquenti dei centri sociali che sgombereremo uno per uno che sgombereremo col sorriso uno per uno dopo i campi romi i centri sociali e l'Italia sarà un paese migliore perché ognuno può essere in d'accordo in disaccordo ma non lo fa con le violenze e con le bombe carta che paese vogliamo la ruspa batte ma poi ricostruisce noi siamo qua per costruire ricostruire un saluto agli amici che sono in piazza in questo momento fategli arrivare il vostro calore a Caltagirone perché l'Europa sta massacrando l'agricoltura più bella del mondo mangiamo italiano beviamo italiano compriamo solo prodotti italiani e lasciamo marcire sugli scaffali le schifezze le alghe e gli insetti che i geni di Bruxelles vorrebbero portare sulle nostre tavole viva pane e salame se non ti va bene pane e salame torna a casa tua che il mondo è grande e puoi decidere di mangiare quello che vuoi perché c'è il lavoro dietro il Made in Italy c'è il lavoro un pensiero anche e il nostro impegno è esserci il fenomeno Renzi dice che la crisi è passata vallo a raccontare alle 578 famiglie della multinazionale Michelin che rischiano di rimanere a casa dall'anno prossimo sono stufo che queste multinazionali grazie a regole assurde italiane ed europee vengano a comprare il meglio delle aziende italiane poi chiudano qua e vadano a licenziare qua per assumere a 4 euro all'ora nel resto del mondo io vorrei che le aziende italiane tornassero italiane dalla prima all'ultima e su questo la politica può fare qualcosa certo Renzi preferisce occuparsi di adozioni gay ma con un paese di disoccupati neanche i gay possono mettere su famiglia e quindi idee chiare lavoro e sicurezza poi ognuno nella sua vita fa le sue scelte per quanto mi riguarda però il bambino viene adottato dove ci sono una mamma e un papà e su questo non cambieremo mai idea ognuno può vivere la sua vita i suoi affetti come vuole però una società che non fa figli è una società che va a morire io ringrazio chi è intervenuto oggi e ci ha messo la faccia insegnanti medici avvocati poliziotti che significa proposte di legge io ho un impegno me lo prendo con voi con voi che siete qua e con voi che siete a casa ho l'orgoglio di aver riunito in questa piazza le opposizioni per bene ma non ci sarà nessun ritorno al passato non possiamo vivere di nostalgia non possiamo vivere di ricordi viviamo guardando al futuro e quindi io vi posso assicurare che ad esempio un personaggio inutile incapace come Angelino Alfano con noi non ci sarà mai in questa piazza non ci sarà mai occupati dei poliziotti cretino che non sei altro difendi la tua gente difendi gli italiani per bene espelli qualche clandestino se ne sei capace e lascia perdere la politica che non fa per te a me piacerebbe un paese che non campa sul gioco d'azzardo sulle slot machine e i videopoker rottamiamo le slot machine e i videopoker che rovinano milioni di persone perché uno stato che campa sul gioco d'azzardo è uno stato fallito per quanto riguarda il diritto di voto altro che gli ussoli e dare diritto di voto a chi sbarca domani mattina scommettiamo sulla nostra gioventù migliore diamo il diritto di voto ai ragazzi di 16 e 17 anni coinvolgiamoli nello scrivere il loro futuro del loro paese della loro regione e della loro città perché abbiamo i giovani migliori è questo è questo e quindi guardare al futuro offrire un'opportunità di lavoro e di famiglia qua quanti ragazzi di 20 25 30 anni laureati dal nord ma soprattutto dal sud devono scappare perché se vogliono fare il medico l'ingegnere il pizzaiolo il barista non c'è posto a Taranto non c'è posto a Roma non c'è posto a Milano e devono scappare andare a Berlino a Londra a Parigi e noi perdiamo la gioventù migliore e ci riempiamo di immigrati che rompono le scatole dalla mattina alla sera dobbiamo scommettere sulla nostra gioventù sui nostri ragazzi sulle nostre ragazze e aiutare chi ha più bisogno questa non è la piazza come leggevo su qualche giornale di sinistra del rancore dell'odio io non ho nemici io non odio nessuno io vorrei che ciascuno potesse vivere libero nella sua esistenza ma chi ha bisogno di qualcosa in più deve arrivare prima e io mando un saluto ai ciechi che si stanno riunendo a congresso a Chianciano Terma in questi giorni perché è una vergogna uno Stato che dà 500 euro al mese a un invalido totale al 100% e 1200 euro al mese al primo brubru che sbarca domani mattina e che non scappa da nessuna guerra e che non scappa da nessuna guerra io sogno una Bologna e un'Italia aperta aperta non mi interessa il filo spinato una città aperta un paese aperto ma con delle regole e chi sbaglia chi sbaglia paga tutti sono i benvenuti ma chi sbaglia paga un'Italia generosa un'Italia generosa quanti di voi in questa piazza sono donatori di sangue sono iscritti all'Aido fatevi sentire quanti fanno volontariato in parrocchia quanti fanno volontariato in una casa di riposo apriamo il cuore apriamo la mente ma io non sopporto quei comunisti con la puzza sotto il naso che aiutano chi sta a 5.000 km di distanza ma si ridimenticano del pensionato che sta sul loro pianerottolo prima la nostra gente mi hanno detto che i partigiani l'associazione nazionale partigiani d'Italia temeva che voi le persone per bene le mamme e i papà che sono in questa piazza danneggiaste il ricordo di chi ha dato la sua vita per riportare democrazia in questo paese ma io vorrei dire sottovoce all'associazione nazionale partigiani d'Italia che più che avere paura della piazza della Lega vada a tirare le orecchie ai loro ripotini dei centri sociali che sono gli unici che dovrebbero vergognarsi a pronunciare la parola resistenza perché un vero partigiano si vergognerebbe del fatto che oggi Bologna sia imbrattata da quattro delinquenti figli di papà che non hanno nulla a che fare con la democrazia e con il rispetto è questo che vogliamo e lo avremo lo avremo per i nostri figli città aperte città serene città accoglienti città sicure e questo costa zero vi do la mia parola d'onore e io ce la metto tutta se voi non mollate io non mollo di un millimetro se voi ci siete io ci sono da nord a sud da nord a sud perché abbiamo un compito storico questa è la gente per bene onesta laboriosa altro che bestie mi sembra che Matteo Renzi che fa momentaneamente il presidente del consiglio per chi non la pensa come lui e chiede regole chiede certezza abbia usato qualche settimana fa un aggettivo che lo dovrebbe far vergognare non so se riusciamo a mandarlo sul video la solita spocchia di sinistra per cui se non sei di sinistra non puoi fare arte non c'è il PD contro la destra ci sono gli umani contro le bestie e basta lui questo incapace questo incapace divide la società in uomini e bestie io divido la società come faceva il professor Gianfranco Miglio in produttori e parassiti e lui è un parassita ed è un degno rappresentante dei parassiti che campano alle spalle del prossimo lui Alfano la Boldrini questa gente che in un paese civile non amministrierebbe neanche il suo condominio noi vogliamo vincere non partecipare io discuterei di riforme domani mattina anche con Grillo e 5 Stelle ma ho come l'impressione che a Grillo non interessi governare ho come l'impressione che gli interessi solo dire no 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 questa è una piazza che dice no ma poi propone i suoi sì e noi se voi ci date una mano se chi ci sta seguendo da casa ci dà una mano noi lasciamo ai nostri figli un paese moderno generoso solidale che lavora ma dove chi sbaglia paga dove la proprietà privata è sacra e dove prima viene la nostra gente io vado a chiudere vado a chiudere ringraziandovi e grazie a Sky riusciremo anche a trasmettere fra pochi minuti la gara di Valentino Rossi che spero possa superare le invidie e le infamie altrui perché dobbiamo andare orgogliosi dei nostri ragazzi essere in grado di costruire un futuro io vorrei essere in mezzo alla piazza stringere la mano uno per uno a ciascuno di voi perché voi per arrivare qua avete pagato il pullman avete pagato il treno avete pagato la benzina non c'è la CGL che organizza le gite premio coi soldi degli italiani non ci sono buzzi e carminati che pagano questa piazza lasciamo gli arenzi i buzzi e i carminati noi vogliamo aprirci all'Italia per bene che sorride e da ultimo la prima legge che io vorrei approvare quando sarò e saremo al governo è una legge che dà futuro al nostro paese è una legge che riempie qualche culla che purtroppo adesso è vuota l'Italia è il paese più anziano al mondo viene dopo di noi solo il Giappone io voglio un paese dove i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano avere il coraggio e la follia e la possibilità di mettere al mondo dei figli che sono il futuro asili nido gratis come in Francia per tutti fino ai due anni e torniamo a correre nel nome e chiudo ovviamente del federalismo del federalismo delle comunità locali del territorio e vi leggo quattro righe vi leggo quattro righe di uno dei più grandi meridionali e meridionalisti che ha scritto pagine importanti di questo paese Gaetano Salvemini quindi non un leghista brutto e cattivo e Salvemini visto da sud scriveva qualche anno fa apri le orecchie Renzi apri le orecchie Alfano lasciate alle regioni e ai comuni tutti i loro denari all'infuori di quelli che sono necessari al governo centrale per compiere le sue funzioni di interesse nazionale allora e solo allora ognuno si terrà i suoi quattrini e li spenderà da nord a sud come meglio crederà allora ci sarà una società libera finché invece ci sarà un potere centrale incaricato di distribuire strade ponti acquedotti scuole e tribunali ci saranno sempre ingiustizie fra le parti dello Stato autonomia federalismo responsabilità difesa dei comuni difesa del territorio difesa delle nostre valli e delle nostre montagne e come diceva in Audi via i prefetti perché dove c'è il prefetto non c'è democrazia lasciamo che siano i nostri sindaci a lavorare mi ero scritto il discorso non ho letto il discorso che mi ero scritto vi offro il mio cuore la mia testa io non mi arrendo fino a che questo nostro paese non tornerà al paese più bello del mondo grazie viva la Lega viva Piazza Maggiore a Bologna perché da questi centomila parte la rivoluzione delle persone per bene grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti